www.tr24sport.it Il programma del Bologna che dovrà compiere un'autentica impresa nella sfida che domani inaugurerà il programma della 26esima di Serie A. La Lazio di Simone Inzaghi è in piena corsa per lo scudetto e ha messo in mostra quello che da molti è stato considerato il miglior centrocampo d'Italia. Vediamo. Il centrocampo della Lazio per tanti motivi, perché unisce forza, qualità, tattica, è il migliore che c'è in Italia attualmente. Ma anche io sono d'accordo, sono d'accordo, se tutto quello che serve è un centrocampo. Tettica, fisicità e gente che faccia girare la squadra. Perciò l'Eiva, che è uno che poi adesso non sta andando benissimo, perché è un giocatore che magari non ha l'assist, non ha il tiro, però è un giocatore che in quella squadra è perfetto, poi a parte gli altri due che ti centro capo. È una squadra che anche in difficoltà l'ha dimostrato, col gioco, perché secondo me è la squadra che gioca meglio di tutti, con l'Atalanta ovviamente, che è un tipo di gioco diverso, col Verona che è un tipo di gioco ancora diverso, più simile a quello dell'Atalanta, però avendo tecnica, forza, tutto quello che è scorsa, ti fa divertire. La Lazio è una squadra che ti piace quando la vedi. Dopo quante? 25 giornate? Se una squadra è a un punto dal primo posto vuol dire che si giocherà allo scudetto, ma è arrivata lì per meriti. La Lazio ha buttato anche via dei punti, è arrivata lì per meriti. È una squadra che gioca bene. Adesso gli è arrivata anche la convinzione di poter alzare l'asticella, perché il suo primo obiettivo era arrivare tra le prime quattro. Adesso ha alzato l'asticella, cos'ha? È spensierata, perché è spensierata, però adesso se la gioca. Occupiamoci di motociclismo. È toccato a Scott Redding il compito di inaugurare al comando della classifica generale le prime due sessioni stagionali di Libere nella 33esima edizione del campionato di Superbike, con la prova che si disputerà sulla pista di Phillip Island. Il britannico della Ducati ha fatto segnare il miglior tempo fermando il cronometro sull'1.30.436. Ben quattro i decimi di vantaggio sui piloti della Yamaha, Razgatioglu e Van der Mark, mentre in quarta e quinta posizione si sono classificati Haslam e Bats. Solo sesto il campionissimo della Kawasaki, Jonathan Ray, mentre il riminese Michael Ruben Rinaldi ha chiuso in nona piazza e il Ravennate Federico Caricasullo si è fermato in sedicesima. Domani si farà subito sul serio con la Super Bowl prevista nella notte italiana per le ore 2 e a cui però farà seguito alle 5 la disputa di gara 1. Intanto, grazie ad Aprilia, Lorenzo Savadori in questa stagione assaggerà la MotoGP nelle veste di collaudatore. Un appasso importante compiuto dal Cesenate che si cimenterà anche in Superbike nel campionato italiano velocità. Vediamo. La fumata bianca è arrivata tra Lorenzo Savadori ed Aprilia. Il Centauro Cesenate sarà collaudatore della casa motoristica che parteciperà alla stagione di MotoGP. Una tappa fondamentale per la carriera del pilota romagnolo che saluta la MotoE, categoria dove si era cimentato lo scorso anno e a proda nel Moto Mondiale. Gli impegni non finiscono qui per il 2020 perché continuerà l'avventura nel Cib insieme al team nuova M2 Racing. Sono molto felice e onorato. Chiaramente è stato molto importante per me cercare di avvicinare il più possibile a questa categoria che è il massimo dell'espressione del motociclismo e imparare il più possibile contribuendo sul lavoro e sullo sviluppo della moto nuova. Farò anche il Cib con la nuova 1100 e anche lì dovremo crescere e fare girare la moto e anche lì avremo un bel lavoro e non vedo l'ora di iniziare. Buone notizie dal ciclismo. Non si ritirerà dal mondo delle corse sui pedali. Manuel Senni. Dopo una 2019 da dimenticare a causa dei tanti problemi fisici, l'atleta Romagnolo è in fase di recupero per tornare a gareggiare col team Bardiani. Si sono dissolte le fitte nubi che si erano create sopra Manuel Senni. Il ciclista di sala di Cesenatico ha vissuto un 2019 da incubo. A febbraio l'investimento in allenamento di un'auto pirata gli ha causato una frattura al polso sinistro. Poi ad agosto i medici gli hanno diagnosticato il restringimento delle arterie iliaca della gamba sinistra. Dopo tre operazioni chirurgiche a Firenze per l'inserimento di uno stent, il Romagnolo del team Bardiani-CSF sembrava costretto al ritiro, in quanto continuava ad essere scarso la flusso di sangue all'arto inferiore con possibili pericolose conseguenze. Il miracolo è avvenuto il 18 febbraio scorso, con un quarto intervento risolutorio all'ospedale Bufalini di Cesena. I dottori si sono interessati al mio caso, hanno deciso di effettuare un intervento chirurgico molto al di fuori della norma, hanno rimosso questi stent chirurgicamente con un taglio alla orta e poi hanno verificato com'era la situazione del restringimento per poi riandare a chiudere tutto e quindi adesso la situazione è molto... le prospettive sono buone per tornare in bicicletta. Possiamo quindi allontanare la parola ritiro dal mondo delle corse? Sì, esatto. Adesso i dottori sono stati molto bravi, quindi mi hanno anche loro garantito il fatto che una volta che recupero da questo intervento potrò tornare in bicicletta ad alti livelli. E siamo al volley. Lo stop forzato della pool promozione in Serie A2 femminile ha costretto al rinvio dell'attesissimo derby tra OMAG a San Giovanni Marignano e Olimpia Teodora a Ravenna. Derby previsto inizialmente per domenica. Le riminesi nello scorso turno hanno sconfitto Torino. Sentiamo allora Anna Gray, una delle protagoniste della sfida. Una partenza folgorante, 2-7-0, poi un piccolo calo, ma però siamo rientrati in partita. Nel quarto parziale tu hai incamerato una serie di muri consecutivi. La nostra formazione porta a casa questi tre punti essenziali per il morale e per la classifica. Sono tre punti veramente molto importanti perché abbiamo bisogno di un po' di sicurezza in più perché l'abbiamo un po' persa dopo la Coppa Italia. Ci sono stati un po' di, non dico problemi, però un po' di difficoltà. Quindi noi abbiamo fatto due set dove abbiamo spinto molto. Il terzo set siamo calati un po', però sono contenta perché siamo finalmente riusciti a ripartire e dare quello scatto in più che ci serve. Ci serve sapere che ce l'abbiamo. Seconda linea per Voxi, gran difesa di Bresciani. È la pipe, c'è il tocco, è la vittoria di San Giovanni. Diamo un'occhiata adesso però alle notizie che troviamo sui quotidiani in edicola cominciando con il Corriere di Romagna che dedica le proprie attenzioni al Rimini. Il Rimini che ha svoltato, parola appunto di mister Colella. Il tecnico bianco-rosso riceve di continuo segnali importanti dagli allenamenti. Prima non c'erano, non temiamo, nessuno. Spazio anche nel taglio alto al Cesena. Riecco Cioffi, dopo 42 giorni, rivede la luce. Cesena Ravenna intanto potrebbe essere anticipata a sabato 14 marzo. Spostiamoci però adesso per quanto riguarda il resto del Carlino che si sofferma invece sulla situazione dell'Inter. Solo Lukaku riempie San Siro. Si va verso Juve Inter e il gol dell'attaccante belga ieri è arrivato nel deserto nella vittoria a porte chiuse contro il Ludo Goretz. Porte chiuse previste anche per domenica, giorno della derby d'Italia con la Juve. E allora sentiamo proprio a tal proposito il parere, o per meglio dire, l'opinione di Luciano Poggi. Si è chiuso il ciclo Europa e lo si è chiuso con il passaggio delle due squadre impegnate in Europa Liga, Inter e Roma, che sono riuscite dunque a superare anche questo scoglio intermedio nella corsa, ovviamente alla finale, finale di Europa Liga che in fin dei conti è quella che conta e non a caso ho ripetuto il concetto, però c'è questa situazione strana, anomala, che non accade quasi mai se non quando viene in casi estremi squalificato un campo, ed è quella delle partite giocate senza pubblico. Perché? Perché ricordo questo fatto, era un clima surreale, quello di ieri sera fra Inter e Lud Goretz, è surreale e incredibile solo al pensiero che è diventato comunque realtà e purtroppo, girando pagina, ci affacciamo alla prossima giornata di campionato, prossima giornata di campionato che sarà invece disputata e al completo, ma naturalmente con alcune squadre che dovranno giocare senza pubblico e soprattutto quello che fa specie è questo Juventus Inter che verrà giocato appunto in questo clima surreale dove si sentono perfino le urla dei giocatori. È un campionato falsato? Beh, probabilmente il coronavirus ci ha messo del suo perché non sia un campionato completamente regolare dal punto di vista ovviamente dello spettacolo e di quello che il pubblico può dare ad una squadra. Questo è l'ultimo aggiornamento per il nostro TR24 Sport. Vi ringrazio allora per essere stati qui con noi. Arrivederci. Vi ringrazio allora per essere stati qui con noi.